Martedì 5 marzo sono iniziati gli incontri con le associazioni del territorio in vista delle elezioni amministrative. Ser Filippi, qual è l'obiettivo? L'obiettivo innanzitutto è ascoltare il pensiero delle associazioni di categoria e quindi dei loro associati, ma anche delle associazioni, associazioni culturali. Ieri abbiamo iniziato nella sala del Poderino, questa sera alle ore 21 ci sarà l'incontro con le associazioni sportive e domani sempre alle ore 21 con le associazioni sociali. Oltre questo, quindi oltre all'associazione di categoria per quanto riguarda le imprese, le piccole e medie imprese, quindi tutte le varie attività economiche, ci sarà anche l'incontro nei quartieri, quindi i quartieri tutti dalle periferie. Durante il giorno quando avrò occasione, sto registrando un grandissimo calore della gente che mi ferma non solo per strada, ma quando entro nei bar, quindi è anche piacevole questo confronto molto tranquillo, molto sereno, per ascoltare le esigenze della città, perché per formare il programma elettorale come coalizione per Fano abbiamo deciso di fare questo tour di ascolto. L'ascolto per noi, la condivisione delle scelte è una delle priorità dei pilastri del nostro programma, quindi devo dire che c'è stata per ora una grande partecipazione, una grande voglia di dire la propria, di dare un contributo di idea al prossimo sindaco, in questo caso ancora candidato sindaco, quindi il clima è molto positivo, ho registrato, come posso dire, difficoltà nel parlare con l'amministrazione attuale, quindi è chiaro che il cambio di passo che ci deve essere per la prossima amministrazione è quello di condividere a priori le scelte che riguardano dagli eventi a tutte le strategie, dai lavori pubblici all'urbanistica per quanto riguarda le politiche cittadine e poi scegliere, decidere e fare le cose.